e benvenuti ragazzi e ragazze qui ci vediamo in questo nuovissimo video, io sono Katz 07 e oggi io e TheCastel, quindi Edoardo faremo una challenge, sfide tra case allora, questi qui sono i nostri quadri dove dobbiamo costruire possiamo costruire pure solo il quadro ok, e direi che possiamo iniziare? sì ok allora lo mutisco ok perfetto allora ragazzi ho mutito Edoardo quindi ora non mi può sentire io non posso sentire lui vi faccio vedere quella che sarà la piantina della mia casa pensavo che era un creeper invece c'era un blocco di dordo che si toglieva poi faccio uno, due, tre voilà aspetta che Dordio è rientrato nella stanza, che c'è Edo? facciamo due piani sì per amare tornare alla tua stanza ho fatto la casa irregolare, che bello adesso vedi quando io faccio le case irregolari mi rode un pochino no, 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 no così e facciamo qui così ma l'altezza quanto c'è? l'altezza da decidere cioè io l'ho fatta di quattro blocchi cioè io l'ho fatta di tre blocchi, scusa va, 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 va scusa voilà allora perfetto che c'è Do? perché entri sempre? che c'è? Do, do, do facciamo una cosa adesso continuiamo la casa poi in realtà ti ripacciamo e adesso mettiamo tutta la roba dentro ok un secondo video let's go che c'è? Allora questa qui sarà la soglia della mia stanza, cioè della mia, no stanza, della mia casa. Allora così, vedo, e così. Mi serve questo qui, in modo da poter far così. E qui. E qui. allora in questo caso mi servirebbe una pala lo faccio molto bene ok ok allora ragazzi questa qui è la soglia della casa spero non ho avvenuto qui però devo fare così un altro sbagliato da materiale questo qui un due così e così ok qui sarà la soglia della mia casa allora entriamo e prendiamo le scale di legno chiaro facciamo e arriviamo fino a qui qui poi io qui 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 no e così e qui così ok mi piace no ma stasso a voi mi piacciono spero di sì poi fatemelo sapere nei commenti che magari devo sistemare qualcosina stavo dentro io nella sostanza come sta andando a vedo a bene che stai costruendo se non lo vediamo già io io volevo dire cioè ho appena fatto il pulimento io quando finisco il muro vado giù a farle scale dove abbia pavimento io le scale ho appena finito così e facciamo no ho questo qui qui così e facciamo uno due tre e quattro guarda mi piace mi piace facciamo uno due tre poi uno due tre e uniamo qui facciamo uno due tre uno due tre ok ok e poi uniamo qui così allora ok qui mi sembra che sto venendo bene allora così perché mi è passato un blocco così davanti eh eh allora così mi piace qui vi fammi vedere cose così allora il tetto classico il tetto classico io sì perché le cose moderne ora c'è no ok cioè quello piatto puoi uscire un pochino di un pochino fuori per fare il balconcino piccolo con la piscina no dai per essere no no per essere sono lì ma di due di due no no è ti hai sfiorato quello qua allora non l'ho sfiorata io sto io mi sono messa sopra ed in blocco dentro allora perché l'ho vaticce dopo l'ho 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 Papare, apare, 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 apare. Così? un po' che mi piace però qui facciamo così ok e il balconino qui però con questo oh è la prima sfida che stiamo facendo in cui non piove allora ok mi piace allora io a volte ci pensavo di fare qui la mia stanza ovviamente e la volevo fare così allora mi metto con una non con queste eccole però non così ok 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 state vedendo qualcosa voi ragazzi ma che dici sono stati miei iscritti no no scusa boys così 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 e poi pure qui sopra mi servono così ok mi piacciono mi faccio mi faccio mi faccio mi faccio mi faccio non da qui però non mi piace faccio 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 voilà io ho finito te edo no 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 sarà un botto di tempo allora ragazzi queste sono le case edo allora la mia questa qui quella dietro questa qui e iniziamo a domanda quella dietro ti vai do ok allora fammi esprimare io ancora non l'ho vista ok porte uguale le mie qui non c'è un bel niente saliamo scale molto efficienti come vedo libera forza a volare sempre guarda non lo so ok quindi sto qui ok non è tanto efficace andiamo a vedere la mia casa ti va aspetta intanto lei ha detto l'ultima cosa io già ho finito debito di sistemi di scale io gioco un po' con le sue porte signore qui io no le facciamo in un'altra le facciamo più tardi no le facciamo più tardi ora dobbiamo vedere la mia sto qui stando no sto venendo sto ho fatto un bel quarto mi ci ho prestato si mi vuole Che cacchio mette, signore guardete, che cacchio mette, ma che cacchio, basta, mi fai fare a me, se no ti rompi tutto, ecco qua, andiamo ad andare alla mia casa, si muova signore, quitto io eh, venghi, 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 le porte, e do, mi devi fare giocare a me, mi hai bloccato dopo, ma mi hai bloccato, eh, allora qui abbiamo il mio bellissimo divanetto con la mia tv, la mia cucina, Ecco questo, il forno al gas, come potete vedere, il mio forno, e la del mio, il mio rubinetto, ora andiamo al piano di sopra, signore Edoardo, Venghi, Aia, aia la mia schiena, E da qui è il mio letto con le double sugar chest, Poi, di corsa, signore Edoardo, Mi sono bloccato, si muova, Donna, sto rimbalzando sul letto, Venghi, Sto rimbalzando sul letto, Non ci sei rimbalzando sul letto, Se non voli, sai, Questo è, E' proprio intelligente, Allora, ecco qui, Il mio balconcino, E guarda caso non c'è uno dei suoi vetri, signore Edoardo, Ok, questa qui è la mia casa, Aio, Vieni, venga qui, signore, Venga dove stai, questo bellissimo sinello, Muio, 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 Ah, sì, no, È l'asino, Ah, sì, no, Aiuto, No, non lo do, Non lo uccidere, Dai, don, No, Principale, che mi hai fatto là fuori? Eh, sorry, man, No, è sbagliato, Ah, sì, no, Io un grattacielo non sono fuori mio, Più tardi, Eh? Più tardi, Più tardi, Signore Edoardo, Guardi cosa ho scoperto, Maiale, Guardi, Edoardo, Guardi, signore, No, 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 È il mio, Mio, È il mio cavallo, Guarda come si può, No, io vado su questo, Guarda com'è, È molto fiero, Mi fai vedere come c'è il cane, Come sta? Normalissimo, Mi fai vedere come c'è il cane, Mi fai vedere come c'è il cane, Aspetta, Che problemi, E io me li compro da lui, Perché io sono più intelligente, Scusi che vuole? Scambiate, Che cacchio l'ho scambiati? Scusi, Scusi, Che cos'è? Accelera, Come, che c'è? Che si dice? Può acelerare, Guarda, Guarda, Mi edo, Può acelerare, Guarda, Come faccio a fare il scambicolo a lui? Oh, Oh, Mi sento, Oh, Entriamo in casa mia, Vabbè, In che casa dovevo dare? Addiamola E' sufficiente E' la vita, la vita Bravo signor maialino Maialino! Maialino! Accelera! Io non ho due, mica uno Mi fai il cavallo Signor maialino è un coglio Lei non è molto intelligente Signor maialino Prima era entrato Ho ammazzato quel tizio e è entrato pure in casa Tu l'ho ammazzato Aiuto Sono fedele al signor maialino Io Oh No 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 No